Stamattina abbiamo avuto anche un incontro col professore Faella che avrà l'incarico per seguire questa fase di lavori e il gruppo di progettazione è stato anche con determina del dirigente costituito, quindi si va avanti su questa strada. Nel momento in cui saranno completati questi interventi che ci sono stati chiesti dal tribunale, si procederà con l'esproprio. I tempi? I tempi con il dirigente lavori pubblici siamo rimasti in intesa che ci darà un cronoprogramma molto dettagliato. Il telemonitaggio di per sé chiaramente durerà un anno, però nel momento in cui saranno posizionati i sensori sulle pareti già di fatto partirà. I tempi sono molto stretti per iniziare questa fase in quanto la ditta che dovrà procedere per il telemonitaggio è già stata individuata, è stata anche predisposta la determinata parte del dirigente.